Vogliamo ringraziare gli esercenti che ci ospiteranno e il senso che dicevamo prima che si poteva tentare un'altra strada che era quella della piattaforma e invece vogliamo realmente rischiare ma rischiare con affetto e quindi grazie a tutti voi per starci accanto. Grazie veramente. E auguri! Di solito in Italia, soprattutto tra i comici, tra quelli che fanno la piattaforma, c'è sempre questa invidia, questa concorrenza. Ma per fortuna noi non facciamo niente. No, esatto, quello che vuoi vedere. Io sono d'accordo con questa unione che si è creata su questo palco e l'obiettivo è riportare, a prescindere poi dal prodotto, le persone al cinema. Ragazzi da sempre! E io faccio la promozione del film di cinema. E io faccio la promozione del film di cinema. E io faccio la promozione del film di cinema. E allora che facciamo? Me contro te! No!